Bocciato il rendiconto 2022, la Corte dei Conti non parifica. La Corte ha sottolineato che il risultato di amministrazione per il 2022 pari a 562,61 milioni di euro di disavanzo è sottostimato e non veritiero. Il disavanzo reale supererebbe infatti i 650 milioni di euro, un dato che pone gli equilibri finanziari regionali a rischio di collasso. Cosa dice l'assessore regionale al bilancio Gianluca Cefaratti? La Corte dei Conti 15 giorni fa ci ha mandato una documentazione, c'è stato un contraddittorio una settimana fa, sono emerse alcune criticità che non riguardano le criticità precedenti, ma riguardano delle problematiche di carattere nazionale, che riguardano le agenzie regionali di protezione ambientale, in sostanza per le quali si attingono fondi dal perimetro sanitario. Secondo una recentissima sentenza della Corte Costituzionale del 2024, non si può attingere a quei fondi, anche se bisogna chiarire in maniera evidente che la regione Meluise, tra tutte le regioni italiane, tra le 21, perché sono 21 comprese le due province autonome, è quella che in termini percentuali finanzia molto di più rispetto alle altre regioni, l'agenzia regionale con fondi propri del bilancio, per cui la contestazione che ci viene mossa ovviamente la prenderemo in considerazione, vedremo sul da farsi, perché insomma mi sembra veramente un eccesso di zelo da parte della Corte dei Conti. Come la regione pensa di procedere? Vediamo quali somme la Corte dei Conti, sezione regionale per il Molise, ci dice di accantonare, vedremo se saremo in grado di accantonare quelle somme. diversamente valuteremo il da farsi, ma permettetemi di dire, voglio dire, sono emerse delle criticità che davvero non era possibile far emergere per il rendiconto 2022.